Ciao a tutti, bentornati su Star Wars Galaxy of Heroes, oggi si parte direttamente sul browser perché ho fatto una classifica, guardando un attimino i personaggi, dei 10 personaggi più facili da agghirare ma che danno più soddisfazioni quindi sono quei personaggi che non vi richiedono di farmare mille milioni di miliardi di pezzi che sono magari da ride ma che con i loro pochi pezzi riescono a spaccare i culi quindi partiamo subito dalla posizione numero 10 e già qua, può essere strano, Ray ci ho pensato un attimino se metterla o non metterla però c'è questo, io ho tenuto sempre in considerazione il fatto di livellarli fino al tier 10 i personaggi però c'è questo, Ray anche a gear 9 spacca lo stesso i culi quindi l'ho messa in questa classifica all'ultimo posto perché comunque è un pochettino difficilina girare fino al livello 10 ma fino al livello 9 è facile, va abbastanza agile l'unica cosa è che quando arriverete al gear 8 vi servirà la fornace che è un pezzo da ride poi dopo avrete i pezzi da 9 però se la portate a 10 spacca veramente i culi quindi io la considero come se il suo gear livello 9 è come quello gear 10 di altri personaggi per questo perché veramente lei a gear 9 tira delle mazzate paurose è utilissima io già quando era a 8 vedevo che tirava delle sassate a 9 peggio ancora e quindi ho messo lei alla posizione numero 9 scusate alla posizione 10 alla posizione numero 9 ho messo Poggle e voi dite, perché Poggle? perché vedete, qua adesso incomincia capite perché? ha bisogno di un solo materiale da ride per tirare fino al 10 quindi voi lo livellate tranquillamente avrete bisogno solo di un gear solo di un droid color dico solo però rispetto a altri che magari necessitano 4 pezzi da ride per arrivare a gear 10 lui quando gli mettete il gear level quando arrivate al gear level 8 gli date il suo droid color poi potrete fare tranquillamente il gear 9 e gli mettete altri 3 pezzi di gear 10 portandolo a un livello molto forte poi contando che ha delle abilità utili sta basso nella classifica giusto perché ha una grandissima sinergia con i droidi quindi questo lo penalizza un pochettino se magari aveva delle abilità che avevano sinergia magari già anche come questo qui come il machine overlord che dava sia i droidi che i genosiani più offesa se magari era un pochettino più allargato questa cosa qui e magari era anche nel metal hive o nel droid assault già gli avrebbe fatto guadagnare qualche posizione in questa classifica e quindi poco al numero 9 al numero 8 ci sta il nostro Garam Master Yoda che anche lui diciamo è un po' come Ray un pochettino una wild card un po' che potevo anche decidere di no ci ho pensato anche qui un attimino però c'è questo Yoda Yoda a parte il gear c'è questa cosa importante quando voi avete le shard di Yoda per portarlo a 7 stelle avete già in automatico anche i soldi perché nelle sfide di Yoda voi prendete i soldi che vi servono per livellarlo quindi questo è un grande aiuto perché sono circa 2 milioni di crediti risparmiati se poi si va a vedere le sue due uniche cose da prendere da ride sono due pezzi diversi ma prima diciamo i requisiti che ha per arrivare fino a qua sono veramente bassi io non me l'aspettavo infatti non l'ho livellato subito sono stato un cazzaro e questo lo ammetto però poi l'ho portato a 9 in un lampo cioè praticamente in un giorno mi sono farmato quei pochi pezzi che mi mancavano e l'ho portato subito a 9 adesso sto lavorando per i 10 ma vedo che è abbastanza easy da portare e poi ragazzi Yoda e Yoda il coltellino svizzero per eccellenza fa tutto fa tutto e quindi è molto utile e perciò c'è lui alla posizione numero 8 alla posizione numero 7 c'è la vecchia Daka perché anche la vecchia Daka è un personaggio utilissimo perché effettivamente ci sono certi team arena che con Daka quando difendono spaccano i culi poi lei ha questa cosa che che lei come molti dei personaggi che andrete che andrò a spiegare dopo praticamente tutti diciamo quasi tutti tranne mi sembra solamente uno non ha bisogno delle fornaci che sono quelle che servono a Ray perché le fornaci no il giocatore saggio le dà prima a Ray e poi a qualun e poi agli altri personaggi ma la prima in assoluto che deve avere le fornaci e lei infatti che io quando ho livellato anche se era più bassa di livello e più bassa di gear la fornace era per Ray e poi dopo l'ho data agli altri miei personaggi e quindi cosa succede c'ha bisogno del droid color e poi del numbiar security scanner ma anche lei come il gran master Yoda non ha bisogno di altri pezzi da farmare tantissimo vedi allora le manette le stun le pistole le pistole stordenti 5 quelle sono veramente toste da farmare e non averle per Daka questo è un grandissimo boost e come come valutazione io l'ho messa al settimo posto al sesto posto abbiamo la luminosa l'illuminara no che anche lei diciamo che l'illuminara l'ho messa anche perché è stato il mio primo personaggio che ho portato a sette alla sette stelle si farma velocemente tutto purtroppo c'è all'otto c'è il requisito della della fornace no e al nove il lumbian scanner però anche lei dopo che gli avete portato queste questo questo grade della fornace scusate no diciamo il livello nove lo fate velocissimo a portarlo vi manca poi solo lo scanner però è comunque molto veloce come personaggio da da farmare dopodiché andiamo sull'altra sulla posizione numero 5 che è oh era un po' giù barri soffi che perché è lei che lei è uno di quei personaggi anche lei che per arrivare al tier 10 ha bisogno di un solo pezzo da ride contando che lei è utilissima specialmente nelle missioni light ma soprattutto nella guerra galattica dove vi permette di farle praticamente in auto battle no vedete richiede solamente questo qua il droid color ha la sfiga di dover avere le pistole le pistole stordenti però ne ha solamente una volta la richiesta poi dopo ovviamente qui ha le manette però sono abbastanza divise non ha tipo 50 stun manette stun 50 manette stun qui 50 qui ne ha diciamo relativamente poche da farmare e la rendono un buon personaggio per cioè che quando la 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 ghirate vi dà delle grosse soddisfazioni passiamo alla posizione numero 4 dove troviamo il vecchio ben anche lui lo stesso motivo di barris ha bisogno di un solo gear da ride per per livellare allora diciamo che però lui ha questa cosa qua che ha bisogno di un sacco di questi pezzi qua dei carbanti del sensor a ride allora c'è da dire che facendo le sfide se ne trovano a trilioni diciamo ne troverete ne troverete veramente a pacchi di quelli lì quindi non saranno un grandissimo problema diciamo l'unico vero problema dei pezzi fuori da quelli dei ride sono le stun le stun gun che ne dovete fare 50 qui e 50 qui ma qua sarete già a gear 10 e quindi già il vostro obi one spaccherà i culi poi personalmente io l'ho messo così alto in classifica anche perché lui da quando lui in arena riesca a stare tra i primi 20 senza senza sbattimenti ok quindi è una figata è per questo che è così alto a me livellandolo no mi sono accorto quanto era veloce livellarlo no solo quando 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 era ormai troppo tardi mi sono perso giorni e giorni di ricompense arena come uno stupido diciamo come uno stupido quindi me ne pento tantissimo ma dopo questa fase di pentimento passiamo al al podio quindi al terzo posto che qui stavo guardando il buon tibo anche lui da quando sono da quando è venuto fuori il simpaticissimo ride del rancor e la gente si accorta che il team morsacchiotti era era molto forte contro era molto utile in questo in questa incursione tibo è stato rivalutato tantissimo tant'è che anche io poi l'ho livellato e tutto me ne sono accorto anche io è molto comodo da livellare perché anche lui ha bisogno di un solo ride gear e nello specifico vi faccio vedere anche lui è il droid color anche lui purtroppo perché io non l'ho livellato tantissimo perché in quel momento lì ho livellato hobbie e hanno praticamente le stesse richieste che hanno bisogno di un sacco di sensori hanno bisogno di questo qui no del thermal detonator hanno bisogno di tutti due anche della stun gun quindi ho preferito livellare hobbie per ovvie ragioni ma adesso sto livellando sto livellando anche lui pensate o preferisco livellare lui a fives vi dico solamente questo e quindi questo era tipo che comunque adesso viene usata anche ogni tanto in arena ne ho trovato una volta in arena come leader ed è uno scassamento di cazzi solo che ricordatevi di non usarlo in combinazione con gente che taunta perché lo stealth annulla il taunt semplicissimo dopodiché posizione numero due e questo lo stavate aspettando il geonosian soldier diciamo allora questo personaggio qui farmabilissimo allora innanzitutto farmabilissimo perché cantina battle la prima la prima battaglia di cantina quindi lo farmate velocissimo poi anche le sue richieste di gear allora non sono disumane no e c'ha come pezzo di ride questo qua il lumbian purtroppo ne dovete avere due però quando gliele mettete il geonosian soldier fa un danno della madonna no e già vi dico già gear 9 spacca i culi quando poi lo portate a gear 10 e contando che a gear 9 così fa già un sacco di danno vedrete che quel poco che avete speso perché alla fine diciamo di complicato ha le 50 manette cioè è l'unica cosa perché adesso la la siringa da quando la si può farmare nelle sfide è diventata diciamo un materiale non dico comune ma quasi e quindi questo l'ho aiutato molto a salire in questa classifica ma attenzione adesso siamo arrivati al primo posto questo per me è stato il personaggio che per ogni singolo pezzo che gli ho messo di gear mi accorgevo di quanto spaccava i culi che praticamente ogni pezzo di gear che gli sto mettendo ancora adesso perché lo sto livellando mi ha aiutato tantissimo e sto parlando del capitano fasma questo perché anche lei ha bisogno di un solo cavolo di ride gear per arrivare a tier 10 e attualmente sto cercando di farlo per farlo arrivare al ride 10 perché ci ho messo un attimino a farlo perché l'unica allora questa è veramente è una è una cosa che ho detto che avere le fornaci come requisito è una pecca però vi posso assicurare che questa è stata una delle fornaci meglio spese ovviamente prima l'ho data a ray la prima fornace che ho tirato fuori la seconda l'ho data a fasma però ha cambiato totalmente perché il bello è questo di fasma che dopo che gli date la fornace del gear livello 8 poi per portarla a gear 10 non avete bisogno di nessun altro materiale di ride ok e questa è la cosa l'unica l'unico oggetto che vi può rompere che mi sta rompendo anche a me comunque sono i sono i thermal detonator perché li ho li ho usati per pomparmi obi-wan no però pensandoci era molto meglio se me li tenevo e me li facevo a fasma perché questo era per è stata una mia diciamo un mio abbaglio che ho potenziato un pochettino di più obi-wan e se invece la davo a fasma fasma ce l'avevo già a gear 10 no magari già con i suoi due pezzi che spaccava i culi ancora di più perché tanto obi-wan il vecchio obi-wan non ve l'attacca nessuno è questa la cosa non serve a niente che ha un miliardo di vita quindi questo era la classifica dei dieci personaggi col gear facile che danno più soddisfazioni secondo me voi cosa ne pensate c'ho ragione non c'ho ragione sono un minchione non lo sono aspetto i vostri commenti ditemelo pure scrivetemi se vi è piaciuto il video comunque un bel mi piace mettetelo e noi ci vediamo al prossimo video e ciao 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 ciao